Molte le interrogazioni presentate nel question time agropolese del 26 aprile, alcune senza risposta a causa del poco tempo disponibile nel fornire la documentazione richiesta da parte degli uffici preposti, considerato anche il giorno di festa del 25 aprile. Agostino Abate ha dato il via al dibattimento con la richiesta di spazi di parcheggio ad uso pubblico in via Marco Polo. Il sindaco ha risposto che a breve il comune acquisirà dal privato un'area e la utilizzerà per i parcheggi. Abate ha poi evidenziato la questione della scuola Monzillo, che potrebbe diventare la sede della Polizia di Stato spostando i bambini in altri luoghi e compromettendo ancora di più il diritto allo studio, visto che a detta del consigliere ad Agropoli mancano 70.000 metri quadrati di standard ed edilizi relativi alla scuola. Il sindaco per ora resta in attesa della risposta della Polizia di Stato e poi lascerà decidere il Consiglio Comunale. Il consigliere Caccamo ha chiesto di implementare i servizi di sicurezza urbana presso il mercato settimanale e i nomi di chi abbia collaudato l'area. Ha chiesto inoltre anche il miglioramento della segnaletica nel nuovo incrocio urbano di via Cannetiello. Il sindaco non ha dato risposta giustificandosi del poco tempo a disposizione da parte degli uffici preposti a produrre la documentazione necessaria. Pertanto provvederà ad inviare i documenti nel breve tempo possibile direttamente al consigliere. Nella seconda interrogazione di Caccamo è stato espressamente chiesto l'elenco dettagliato delle spese e dei fondi destinati alla provincia di Salerno per quanto riguarda i proventi derivati dall'installazione dell'autovelox. Il sindaco ha risposto che 5.927.000 euro è l'incasso derivante dall'autovelox nell'anno 2014-2016. Le spese sono state ripartite con 1.800.000 euro per il consorzio Gives che gestiva l'appalto, 1.376.000 euro per le spese postali, 60.000 euro per la lettura delle targhe tramite l'ACI, 256.000 euro per il personale, 56.000 euro per spese di incarichi per difendere i vigili presso il Tribunale. La rimanenza, ovvero il ricavo di 2.300.000 euro, è stato diviso tra il Comune e la provincia. Caccamo ha chiesto di avere anche l'elenco completo dei mutui accesi con indicazione dell'ammontare complessivamente mutuato. A rispondere l'assessore al bilancio del Comune di Agropoli, Mutali Passi, dichiarando che il Comune di Agropoli ha 110 mutui accesi, di cui l'ammontare chiesto a prestito è di 37.510.902 euro. Per quanto riguarda i mutui per investimenti, si ha un residuo debito pari a 30.562.472 euro, per il debito di cui al Decreto Legge 35.2013 8.248.588 euro. L'importo complessivo delle rate annuali che il Comune paga è di 2.612.835 euro, di cui 974.858 euro per quota capitale e 1.637.977 euro per quota interessi. Unico mutuo ipotecario è quello relativo al castello acquisito dalla Stu con un debito di 2.566.000 euro. Il plafone è di 24.700.000 euro. È arrivato poi il turno della consigliera della Lega, Gisella Botticchio, che ha chiesto informazioni in merito al numero di unità di personale stabilizzato dall'Agropoli Cilento Servizi e quali le procedure di assunzione, oltre che alla montare annuale delle spese per il personale della società. Il sindaco ha rinviato la risposta per mancanza di tempo nel produrre i documenti richiesti, scatenando così l'ira della consigliera che ha chiesto le dimissioni dei dirigenti della società, ovvero del presidente Giuseppe Capozzoli e del direttore Domenico Gorga. Altra interrogazione della Botticchio, invece, ha riguardato la società che gestisce i rifiuti in città, la Sarim, cercando di capire come hanno operato con le assunzioni. Il sindaco ha risposto che non vi è stata nessuna interferenza da parte dell'amministrazione comunale sulle selezioni di personale svolte dalla Sarim. Infine, l'interrogazione di Abate al sindaco sulla procedura di ritiro dei rifiuti dei non residenti. Coppola ha risposto annunciando l'istituzione delle isole ecologiche mobili. E per ultimo l'interrogazione di Abate al presidente del Consiglio Comunale, Massimo Laporta, in riferimento al Consiglio Comunale dell'11 aprile 2019, ovvero se il presidente del Consiglio avesse verificato la presenza dei verbali della deliberazione della seduta precedente quattro giorni prima del Consiglio Comunale. Dalla risposta del presidente del Consiglio ne è nata una discussione dove è stato coinvolto persino il segretario comunale. In sostanza Abate, Laporta e il segretario hanno interpretazioni diverse sugli articoli del Tuel e siccome il consigliere Abate ha richiesto al prefetto e al ministro delucidazioni in merito alla corretta interpretazione, il presidente Laporta ha chiuso la seduta dicendo che la discussione potrà essere ripresa una volta arrivata la risposta del prefetto.